ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video e bentornati sul mio canale siamo qui oggi su blowstars per riscattare questa nuova schiena in più prenderci il pacchetto volevo dire mi sono un attimo incartato a fare l'intro però niente è come sempre qua sono riuscito anche ad arrivare ad oro 1 ok e niente infatti faccio vedere un attimo che sono arrivato qui in singolo in oro 1 purtroppo in due squad sono molto messo bene perché comunque non ci gioco tanto e faccio alcune partite qua e la sì ma volevo dirvi che un attimo che bevo a buon succo volevo dirvi che comunque sono arrivato anche alle 20.000 coppe niente credo che sia un buonissimo obiettivo ho visto che tra 16 ore c'è il drop aspetta che magari se c'ho qualche brawler ancora droppato mi tocca partarlo su subito no 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 e allora cavolo devo tragiare da un attimo e portarmi o bombardino o buzz su sopra comunque ho dato i punti a buzz per maxarlo non non riesco ancora a massarlo abbiamo maxato anche in ita mister p e ovviamente vabbè anche bello che era normale possiamo maxare energetica ragazzi io lo voglio maxare e magari provare un altro rank 25 scusate per la web cioè era un po storto non ho ancora ragazzi e dico non ho ancora giocato la sfida di griff in questo per adesso infatti dovrebbe scadere tra quanto scadere tra 18 ore quindi ragazzi mi sa che inizierò a fare un po di livello trovando i player che si trovano ho preso degli appunti da un video che ho visto da un ragazzo molto bravo che ha riuscito anche a fare la sfida andiamo subito quindi mettiamo uno singolo vabbè proviamo a fare una partita con buzz canalia signori ragazzi devo fare un attimo lo screen lo sapete che io ci tengo a fare lo screen non riesco a farlo come gli altri così quindi lo facciamo ecco purtroppo non avete visto l'animazione ma adesso l'andiamo a vedere in home molto bella carina la skin devo dire che ci hanno messo l'impegno però se devo dire la verità questa skin è più bella perché è dinosauro cioè scusate qua in questa skin dove è il dinosauro cioè è viola i dinosauri viola non ne ho mai visti vabbè anche verdi però verdi si avvicina già un po al marrone e così però c'è scusate no capisco tutto però un cane potevate fargli non so il dinosauro un piccolo t-rex o un triceratopo che lo lanciava addosso la persona insomma ragazzi sono un po dubbioso su questa skin non so neanche se prenderla perché ci sono di sicuro di miglior skin lo sapete che io direi è quella di energetic è più bella però secondo me anche la colette lui non mi piaceva tanto quella di gail c'è stato tantissimo di di ricordo di gelindo di poi era si gelindo ecco infatti adesso andremo a vedere prima questa di skin e poi andare a vedere l'altra diversa quindi andiamo startiamo alla fine del video restateci che andremo ad aprire il pacchetto e direi che si potrebbe che bello colpo che pensa al colpo che mi tocca tragiardare per questo qua ma non ci vengo a sbobbanare mi dissocio però lol mi sono già quasi caricato la ulti ragazzi alcune volte dice è tipo è una cosa troppo lol secondo me ci sta molto è bellissima saschi ma questo come non può aspetta che mi sta guardate il cane oddio per poco pensavo che si era lanciato sotto una dinamite quindi va bene no comunque c'è la gente che ti viene a pushare anche quando stuna ragazzi fa tipo dei brillantini anche quando spara c'è tipo lo scoppio di qualcosa ci sta molto questa skin è molto carina volevo farvi vedere la ulti comunque qua c'è tutte le mosi con madonna quanto toglie e comunque ci sta molto guardate che si vede il cagnolino in partita è qua sotto da noi quando fischiamo c'è il microfono che diventa sempre più grosso Charlie vieni qua un attimo che mi devo ricaricare la ulti madonna ho capito ne c'è mi devo solo ricaricare la ulti non andarti ad ammazzare per favore mentre io metto tutte le emoticon che ho seleziona sì ma sei un pirla c'è la scegli credo la più pirla nel mondo non ho parole ragazzi non ho parole vabbè facciamo un'altra partita con questa skin buon succo cavolo se volete un altro sblocco di skin o cos'è il genere questo qua guarda come inizia a raggiardare subito lui subito ma madonna cioè mi stava per ghiacciare però non sono riuscito a non farmi ghiacciare totalmente perché se non credo che era un guaio mi si credevo io arrivo in testa lo studio ma l'ho ammazzato moio però ragazzi ho fatto una kill io sono sceso in testa magari con rampino dovevo andarmi se magari era andato via con rampino faccio l'ultima con questa skin perché ragazzi devo ricaricarmi la ulti e farvi vedere contro ai muri come è bella effettivamente comunque oggi più o meno è stato tutti l'anno sbloccata anche quando io ho sbloccato il pass quando ero alla soglia 30 senza missioni aggiuntive del pass quindi cioè diciamo che ho traiardato abbastanza per fare tutte queste cose spero che vi sia piaciuto il contenuto ma si una brutta persona viene qua ma lo ammazzo no mi ha ammazzato lui perché è un culo di... va bene no va bene ragazzi questa è una brutta persona finché non riesco a caricarmi una... cioè ma io non ho parole guarda se volete comunque altri video di questo genere lasciamo tipo si riesce ad arrivare a quattro like cinque che non ne ho mai chiesti così tanti però secondo me ci possiamo arrivare allora no scusa eh cioè con tutto il permesso mi puoi sparare ma non troppo cioè ragazza capito che... madonna c'è pure mi ha ammazzato pure madonna c'è io non ho parole comunque non ho parole cioè non ho parole c'è una gente proprio pezzi basta no non ho parole veramente la vergogna ma no scusi signor brock questo è mio ok ecco touch my culet ma non ho police signor brock lo ISO no 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 l'ho messo sempre a stesse modi con k ג'hubert ma ben niente e niente pasta col salmone mi il microfono si rompe cosa a caso dice questo mamma 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 oh ragazzo hai rotto un po' i gabasisi per chi non lo sapeva questo è un ragazzo quel grande fra ma ce lo richiama a distanza e non lo sapevi guardalo che lurido vabbè che brutta persona sto ragazzo che brutta per no ma quanto c'era lungo range vabbè io non ho parole ragazzi non ho parole ok questo video sta durando troppo adesso faccio questa partita datemi la vinta perché c'è veramente una cosa da ero venuto qua per fare amicizia lol bravo bravo scappa ignorante ti conviene cavolo volevo fare vedere la ulti però adesso mi sa che neanche mi conviene perché cioè io guardavo ragazzi non so se la vedrete avete visto la grappling ragazzo guardando dalla telecamera ma non venire c'è ho capito eh che vuoi andare a quel paese questo l'avevo capito perché ti chiami tara tara cagana ma non c'è un modo grazie bro me ne vado grande bro beviamo il succo no no ho sbagliato anche il grappling va bene perfetto e mi sa che sto facendo tipo una challenge quando faccio una kill quando faccio una kill si vabbè è meglio non dirla adesso ci andiamo a provare velocemente ragazzi la skin normale e io non so se lasciare questo perché ti dicono ah quello lì non ha scioppato il pass l'ha trovato capite che non mi piace tanto e vabbè capite capite bravo si si io mi ricarico la ultima mi ricarico a pezzi segano no no spe 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 questa è la cura la cura la cura oh madonna raga me la son rischiata pensavo di morire questo qua se lo merita fischia perché è una bruttissima persona secondo me però a caso neanche mi son venito vicino che questo te mamma cioè tipo scambonato comunque raga secondo me è più bello così cioè è veramente una cosa è più bello secondo me è più bello nel senso più bello la skin propria c'è perché capite cioè la vedete no è più bello è verde no e ci sta molto un verde un viola già in un gioco che comunque vedi che anche la safe un po' secondo me si mimetizza per solo quello un mio dio e tanta roba tanta tanta roba tanta 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 roba e niente insomma non so perché mi sta seguendo vabbè mi ha scioccato due colpi ci andiamo ad aprire subitissimo cavolo per tre coppe e non so se vedete che comunque allora a me piace una cosa perché comunque fanno le icone con la skin normale però quando utilizzi la skin non è molto bello cioè io non so se utilizzarla questa con quello allora sì allora io utilizzo questa skin perché prima di tutto è bella però questa non mi piace perché comunque è molto spoglia non è non è del mio tipo cioè mi piacciono mi piace questa perché è più modificata cioè hanno messo delle cose qua è molto da vecchia cioè non mi piace quello stile lì però questo mi piace molto più di questa skin quindi magari alcune volte andrò ad alternarla altre sì altre no quindi è probabile che però tengo questa niente il video finisce con questo pacchetto di razioni speriamo in bene e copro pure e picca oddio del colonnello ringhio non me ne faccio niente che fa schifo totally schifo va bene niente andiamo un attimo a selezionarle ovviamente quella del colonnello ringhio la mettiamo qua proprio chilling cavolo era più bella quella speciale certo ma però che schifo che 50Ü che chi ci si chi culpa che chi 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 che mi pocoin questo tatalita qual era l'ultimo era tipo qualcosa che piange pengni piangeva tip po'. fini si crediamo ah ci stanche ma c'è anche no bellissimo anche lo scheletro che piange perché c'è quella gocciolina anche lui che poi fa tipo un brillantino blu ci sta tantissimo quelle emoti molto carine e niente vabbè qua tutte del passo ce le ho comunque quella lì del bug di questo si mi è venuta anche a me e mi è piaciuto cioè non mi è piaciuto il bug perché adesso io dovete dirmi questa cosa non so facendo qualcosa dov'è l'emoticon cioè qual è l'emoticon più bella tra queste tre allora la tavola da surf normale il cagnolino insieme a Buzz Canaglia oppure il cuoricino con l'incornetta lì io lascio questa qui quello col cuoricino perché è viola e ci sta secondo me tantissimo ma proprio tantissimo è molto bellina qua non so ci sta questa qui della rabbia sotto quella del pollicino quella del pollicino a me non mi piace so già come uscirà uno schifo palese uno schifo la lacrimuccia ci sta perché c'è quelle due cose l'intorno nella faccia e niente ho fatto tutto giusto no? qua ci va la rabbia così è tutto giusto lo slot niente io credo che se non faccio dei conti sbagliati un pass da 90 gemme io ne ho 90 un pass costa precisamente 1600 no scusami che 1600 non lo comprarebbe mai nessuno 169 gemme se facciamo 90 90 per 2 90 per 2 180 mi rimangono 20 gemme e poi magari lì si può vedere poi certo se non mi piace il pass proprio neanche lo shop però bisogna vedere dai vediamo se a me piacerà il pass ovviamente lo shop se no niente e vi dico un'altra cosa e poi stacco perché dura anche questo troppo video farò bombardino se mi riesce e ho trovato il gadget quindi magari ci provo farò la sfida ovviamente e ho provato a portare l'energetica al 25 sono riuscito a 725 coppe poi non è più fattibile perché trovi solo il primo cioè ti caricano la ulti però dopo dicono eh no bello adesso la voglio caricare anche io però tu già gli spari e quindi se la dovrebbero già caricare di loro però vabbè niente chiudiamo il video così proprio con un energetic cattivissimo credo che sia ed è entrato in meta secondo me con il gadget puoi fare dei trick shot veramente una bomba niente ci vediamo in un prossimo video 4 like o 5 like e porterò forse un altro pass o skin sbloccabile cose del genere fin qui ci siamo arrivati magari potrei arrivare a 20.500 coppe e portare un contenuto vedete voi oppure alle 21.000 niente ci vediamo in un prossimo video ciao